Secondo ricerche molto recenti, gli NPL saranno un mercato che proseguirà ancora ad essere molto importante nel 2019. Le grandi operazioni legate agli NPL, Serini parto subito da lei, secondo voi non le vedremo più, si inizia a giocare una partita importante, una partita nuova anche per rendere liquide le operazioni legate agli NPL. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Le grosse operazioni degli NPL secondo me sono finite, perché di fatto l'anno scorso il sistema bancario italiano è sceso di 50 miliardi di euro, oggi sono più o meno sotto i 30 miliardi come valore netto, se si pensa al valore netto degli NPL, questo parlo appunto degli NPL nei bilanci delle banche italiane, pesano circa l'1,7-1,8% del totale impieghi, siamo tornati più o meno ad una situazione stabile, diciamo attorno al 2006, pre-crisi, perciò mi sembra che per il sistema bancario italiano abbia fatto i propri compiti e non sia più una priorità. Poi ci sono gli UTP che sono una priorità, questo sicuramente, però ecco io non vedo grandi operazioni come quelle fatte l'anno scorso, ma vedo un grande movimento per quanto riguarda gli NPL, ovviamente sicuramente sulla gestione, quello siamo tutti d'accordo, però un gran movimento sul mercato secondario e sulle posizioni di più piccola dimensione, questo vuol dire che il mercato secondario avrà una, starà, sta crescendo e crescerà in maniera molto sostanziale e questo vuol dire che il trading sugli NPL sarà sempre più importante ed è per questo che noi abbiamo lanciato Blinks che è una piattaforma di trading sugli NPL, o NPL UTP. Per rendere liquido anche un mercato che riesce a cogliere più velocemente. Assolutamente, il mercato diventa molto più liquido, trasparente, informazioni standardizzate, informazioni a livello internazionale, regole molto chiare fin dall'inizio, un mercato estremamente trasparente, tra virgolette perfetto in termini economici, alla fine che fa il prezzo più alto vince. Si chiude, si tende a chiudere anche il gap tra denaro e lettera, come si diceva una volta e questo comporta ovviamente una maggiore liquidità di asset illiquidi che sono nei bilanci delle banche o nei bilanci dei veicoli di cartellizzazione o dei veicoli di chi ha comprato i credit. Serini, lei ha detto una parola d'ordine perché quando abbiamo preparato questo panel insieme insomma tutti i protagonisti di questa mattina mi hanno detto trasparenza, questo è sicuramente molto importante perché altrimenti rischiamo di andare a comprare qualcosa che non conosciamo bene e la fregatura rischia di essere dietro l'angolo, insomma passatemi la perifrasi, poi ne parliamo anche con gli altri ospiti. Parlando con Ciccarelli, chiedo a lei la parola su questo, è una realtà, ricordiamo IT Auction nata nel 2011, ormai siete in 120 persone che è una gestione di 4.000 immobili in procedure concorsuali, questa in qualche modo è la vostra in realtà snocciolando alcuni numeri. Lei mi diceva, abbiamo visto quasi l'Eldorado degli MPL, gettavi un piccone e vedevi MPL sboccare ovunque, ora la partita si sposta come diceva Serini su UTP. Sì, noi siamo nati nel 2011 come prima casa d'aste telematica per procedure concorsuali, quindi abbiamo sempre puntato proprio sulla trasparenza, sul traghettare un'informazione diciamo completa a chi aveva la possibilità e la voglia di partecipare ad un'aventura giudizionale. Ecco, la trasparenza è il nostro quindi pallino principale, poi utilizzando anche le parole del professor Tremonti occorre gettare un occhio anche al clima sociale, cioè UTP e MPL non è soltanto credito, non è soltanto vendita un immobile ma è anche esecutato, è anche fallito o diciamo, ora fallimento è una parola che è entrata in disuso con il nuovo codice della crisi, ma è proprio un clima sociale a cui va rivolto lo sguardo per poter capire a pieno come poter operare per massimizzare il risultato. Risultato che è un'armonia di più soggetti che devono trovare soddisfazione. Quindi noi negli MPL, essendoci arrivati dopo il lavoro sulle procedure concorsuali, sulle esecuzioni, nei confronti dei beni repossessi del leasing, ci arriviamo come gestore di quella fase finale che è l'asset disposal, cioè la massimizzazione dell'asset per far sì che attraverso una procedura trasparente e competitiva si raggiunga il giusto valore di mercato. E quindi facciamo un'attività di mezzi e non di risultato, cioè cerchiamo di interrogare attraverso un processo che abbiamo messo a punto negli ultimi otto anni in maniera esauriente il mercato per poter dire qual è il valore giusto in quel momento per il mercato. Facciamo un passo in avanti perché ovviamente il nostro mercato dialoga con gli investitori internazionali. Allora arrivo subito da Bortot per chiederle, i vostri interlocutori non sono solamente ovviamente clienti italiani, sono fondi, investitori esteri ancora e imprenditori. Perché un investitore estero, e ne avremo alcuni anche che siederanno qui con noi, qualcuno inizia a raggiungerci, perché un investitore internazionale dovrebbe essere interessato a un UTP con sottostante immobiliare? Beh, allora gli investitori internazionali diciamo guardano in questo momento con fortissimo interesse al mercato degli UTP perché permette di approcciare normalmente un'azienda che è ancora viva, non è ancora morta, tant'è che per le banche viene considerato ancora un cliente, non un debitore in senso stretto. Per cui è possibile lavorando gli UTP in maniera corretta poter ottenere un accesso all'asset o all'equity dell'azienda se è possibile rilanciarla molto più diretto, anche tramite una trattativa con l'azienda stessa, diciamo con l'azienda debitrice. Per cui è un'operazione completamente diversa rispetto all'NPL dove tu vai, partecipa a un'asta, cerchi di recuperare l'asset nella situazione in cui si trova. Qui invece hai la possibilità di lavorare un prodotto, di svilupparlo, far ripartire un cantiere, far ripartire un'azienda, effettuare anche operazioni di stress M&A se sono investitori con una visione più di tipo private equity piuttosto che di mera finanza. Ma secondo lei potremmo vedere grandi operazioni UTP? Delle dimensioni che abbiamo visto sugli NPL, poi coinvolgo anche Peruzzetto, insomma siete protagonisti anche voi con grandi operazioni legate ai non performing loans. Secondo me, se parliamo di UTP veri, perché poi il problema è... Gli UTP mascherati. Esatto, degli UTP mascherati che non sono UTP, se parliamo UTP veri, secondo me le grandi operazioni saranno difficili. Bisogna distinguere però anche la tipologia di operazioni e quello che si può fare. Da alcune analisi, se consideriamo il mercato degli UTP intorno agli 85 miliardi lordi, circa il 40% dovrà essere trattato come single name, che non vuol dire che non si possono fare portafogli o operazioni anche carta su carta, quindi multiseller con la partecipazione di fondi, eccetera, ma dovranno essere trattate come single name, mentre il 60% potrà essere trattato con un approccio più industrializzato. La distinzione, bene o male, può partire dalla dimensione ovviamente dell'UTP di riferimento e dal fatto che si debba fare un'operazione più liquidatoria o di rilancio dell'impresa. Quindi nelle grossissime operazioni delle dimensioni degli MPL io non ci credo moltissimo. Per Ruzzetto che ci ha raggiunto di credito fondiario, le chiedo se è d'accordo con quanto appena detto, anche perché prossimamente dovreste siglare il closing della partnership con Banco BPM, una delle ultime grandi operazioni legate ai non performing loans, quindi le chiedo se è d'accordo, cioè non vedremo ancora grandi operazioni sugli UTP in particolare, glielo chiedo alla luce di un modello, il vostro, che è particolare, replica altri modelli, sicuramente insomma hanno fatto la parte da Leoni nel 2018, sia quello in qualche modo di allearsi con la banca che c'è del credito. Beh sì, fondamentalmente la parte di alleanza strategica che abbiamo col Banco BPM è sicuramente un'operazione importante, in questo caso riguarda gli MPL e non gli UTP e ho piacere di dire che siamo arrivati a completare la fase 2, quindi da ieri fondamentalmente abbiamo un centinaio di colleghi in più che hanno raggiunto il team di credito fondiario. Un'operazione pesante peraltro insomma. Assolutamente sì, perché coinvolge al di là delle persone anche diverse aree territoriali, quindi adesso abbiamo colleghi che ci hanno raggiunto su Milano, su Verona, su Roma, su Genova, quindi diciamo il team si è ampliato e dà un segnale forte di essere di presenza e di collaborazione col Banco BPM su quella gestione di quel portafoglio. Quindi crediamo fondamentalmente molto sulla strategia di partnership con le banche, crediamo che questa sia una strategia win-win, nel senso che porta beneficio in particolare alle banche con miglioramento dell'efficienza, miglioramento del lato costi ovviamente, valorizzazione delle persone, perché chiaramente entrano in un sistema di lavorazione industriale del prodotto NPL con conseguenti vantaggi chiaramente in termini di performance, quindi sicuramente l'accordo strategico di lungo periodo va replicato, crediamo fortemente su questo tipo di approccio verso le banche, sia per gli NPL ma anche per gli UTP chiaramente. E qui arriviamo anche ad un altro tema che è quello dell'esecuzione immobiliare e arrivo da Frigerio perché la vostra storia, la vostra attività si inserisce proprio per aiutare, sostenere anche molti dei partner che sono seduti qua nel riuscire a capire anche quali sono i numeri della giustizia, riuscire a capire in che modo valorizzare davvero l'asset sottostante. Allora, le chiedo subito quali sono i numeri che descrivono il processo anche legale, quindi di giustizia a cui si deve guardare quando si guarda un sottostante immobiliare, anzitutto di NPL e poi insomma abbiamo parlato anche di UTP questa mattina. Esatto, abbiamo parlato che sono finite le grandi operazioni di cessione, abbiamo parlato che sono finiti gli apporti, i credit sono entrati in piattaforma, ma i numeri in esecuzione, gli immobili in esecuzione rimangono sempre quelli. E' cambiato il portafogli, ma il numero di gestione degli immobili non è calato, anzi da poco tempo abbiamo lanciato un acronimo che non è più non performing loans, ma è non performing court, perché in realtà l'unico modo a cui si pensa di recuperare il credito è attraverso un'esecuzione immobiliare. L'esecuzione immobiliare invece potrebbe essere soltanto uno degli strumenti per far uscire il credito attraverso la partecipazione a un'asta. Vediamo quali sono i numeri delle esecuzioni immobiliari, ci riferiamo all'anno precedente. L'anno scorso ci sono stati in esecuzione immobiliare un numero importantissimo di lotti in asta, ricordo che i lotti non parlano mai con il numero delle esecuzioni, io potrei avere un'esecuzione immobiliare, quindi potrei avere un numero di NDG e quindi un NPL che sottostante potrebbe avere 10, 15, 20, 30 lotti. Quindi sapere che questo mercato parla due lingue, due numeri diversi è comprensibile soltanto per chi gestisce, non soltanto la parte creditizia ma anche la parte immobiliare. Vediamo i numeri dell'esecuzione immobiliare. Nel 2018 sono stati battuti in asta 245.100 lotti in esecuzione immobiliare. L'anno scorso è stato l'anno dell'introduzione massiva delle aste telematiche che in realtà purtroppo non hanno agevolato la partecipazione soprattutto del soggetto privato che si è trovato sprovvisto della capacità o della paura anche di approfondire l'attività della telematica. Di questi 245.100 immobili più o meno soltanto il 25% lordo viene aggiudicato ogni anno. Specifico cos'è lordo. C'è una moda soprattutto sugli immobili ultra small, cioè quelli sotto i 50.000 euro della mancanza di saldo in asta. Partecipo all'asta, spesso chi partecipa è un soggetto legato al borrower, legato al proprietario e partecipo all'asta perché non ho la conoscenza di quello che potrei fare realmente per esdebitarmi e per togliere il mio problema. Quindi faccio partecipare mio cugino perché con 3.000 euro resto dentro ancora un anno e mezzo in casa, non saldo l'immobile e quindi prima che l'immobile ritorni in procedura ci vuole ancora circa un anno e mezzo. Capite che 3.000 euro per un anno e mezzo di virtualmente affetto, anche se l'applicazione del 560 senza gli oneri, senza le spese aggiuntive, anche se l'applicazione del 560 codice di procedura civile nuovo ha introdotto dei peggioramenti temporali, il soggetto borrower è tendenzialmente, visto che non è informato e nessuno tendenzialmente lo informa, tende a fare questo tipo di attività, naturalmente sto parlando di ultra small. Di questi 245.100 immobili solo il 22% era in procedura concorsuale, quindi il 22% delle unità immobiliari andate in esecuzione immobiliare in procedura in asta, l'anno scorso faceva parte di una procedura concorsuale, vuol dire che il resto, il 78% erano immobili in esecuzione immobiliare, quindi con un pignoramento, di questo 78% un 80% è riconducibile a una persona fisica, a un'abitazione privata e a un immobile dedicato alla famiglia, quindi principalmente una casa di un italiano che ha subito il pignoramento. Le cessioni di portafoglio hanno leggermente rallentato i tempi della messa a termine, soltanto il cambio di piattaforma di gestione ha rallentato per esempio le pubblicazioni o comunque ha rallentato l'apporto per poter dare impulso procedurale, quindi l'anno scorso è stato un lieve calo, quest'anno ci sarà circa più di 10% di numeri di esecuzione. Di questo 25% quanto recupera la giustizia? La giustizia mediamente su scala italiana recupera soltanto il 56% del valore della CTU sino al 2015. Il 2015 ha fatto cambio normativo, dal 2015 in poi le CTU si sono abbassate di economia e in questi tre anni stiamo studiando quant'è il recupero netto che si attesterà a una cifra ancora inferiore. E allora come si fa a migliorare la performance? A questo punto la domanda viene in qualche modo automatica, come si fa a migliorare la performance data la realtà dei fatti che ci ha descritto? Abbiamo la fortuna di non avere soltanto le esecuzioni come il recupero del credito, innanzitutto ci vuole una grande consapevolezza e conoscenza del proprio portafoglio, sapere quanti immobili ho all'interno delle mie procedure e quanti NDG collegati ai immobili ho, mi serve per capire cosa sto gestendo, dove sono geolocalizzati. Sfido qualsiasi gestore che vede file Excel a sapere quell'NDG a che nome di borrower è collegato e a quale tipo di immobile ha collegato, sapere se è un industrial, sapere se è un hotel, sapere se ha della riconducibilità, quindi la prima cosa è la conoscenza del proprio portafoglio, la frammentazione del proprio portafoglio e poi bisogna ricordarsi che l'asta non è l'unico strumento per uscire dall'esecuzione, tantissimi non hanno conoscenza che su una procedura concorsuale anche in assenza di asti io possa fare un'offerta irrevocabile alla procedura anticipando quindi l'esecuzione immobiliare, quindi il 22% degli immobili che ho detto prima potrebbe essere preso e attivato attraverso un'offerta che io posso fare al curatore, la quale naturalmente dovrà essere pubblicata perché la normativa, l'articolo 107 della legge fallimentare vuole questo, ma sapere che il 22% degli immobili che ho detto prima potrebbe essere attivato con impulso dal basso è una cosa che realmente anche pochi operatori sanno, l'altra cosa importante è sapere all'interno della procedura che io sto gestendo quanti altri intervenuti ci sono per sapere se per esempio attraverso un'azione esterna, va tanto di moda oggi l'acronimo MAV mandato a vendere, in realtà è un'attività di impulso che viene fatta dal basso, cioè la banca autorizza un soggetto esterno, l'unico soggetto esterno che può farlo è un'agenzia immobiliare perché ha il patentino per poter raccogliere l'incarico e può andare dal borrower, verificare quanti interventi in procedura ci sono, perché se io responsabile del credito vedo che ci sono otto interventi in procedura allora ho non percorribilità operativa ma il numero classico di interventi in procedura sono banca, condominio, agenzia delle discussioni, nel momento in cui io autorizzo un soggetto a contattare un privato per la vendita dei suoi immobili in autonomia, posso anche sospendere la procedura e brutalmente avere più soldi in cassa e nel minor tempo possibile, la conoscenza del proprio portafoglio ti porta anche a capire dove intervenire ad esempio con una reoco, quindi una verifica di salvaguarda, una verifica di aggressività, ci sono diversi strumenti oggi e non basta e non è necessario assolutamente fermarsi alle procedure concorsuali e esecutive. Anzi poi è lì che si inserisce ad esempio IT Auction, torno da lei Ciccarelli perché giustamente il tribunale fa il suo ottimo lavoro da un punto di vista legale ma rischia da un punto di vista commerciale di far perdere man mano valore ovviamente per una questione di tempistiche di modalità di gestione che è quasi inevitabile, voi fate una sorta di processo di remarketing per evitare che questo valore venga perso per strada? Sì abbiamo sempre suddiviso l'attività di rivendita in due fasi, processo legale di vendita che è tutto ciò che la legge chiede per poter vendere e per poter arrivare sul mercato e processo commerciale di vendita che è quello che viene attaccato sopra come remarketing, vivacizzazione per poter far sì che il mercato sia interrogato in maniera completa. Ora la conoscenza e il lavoro svolto con i 108 tribunali con cui collaboriamo, la liquidazione delle oltre 2000 procedure concorsuali ci hanno permesso di creare un processo trasparente e competitivo che soddisfa pienamente il processo legale di vendita che a nostro avviso dovrebbe quasi essere gratuito, abbiamo un portale che si chiama Venti giudiziari Italia e abbiamo lanciato una sfida dicendo che la pubblicità legale e la gestione della gara telematica dovrebbero essere gratuite diciamo e su questo siamo pronti poi ad attaccare poi un'attività commerciale che è svolta su selezionati immobili e questo arriva dalla conoscenza del portafoglio appunto come diceva Frigerio per poter attivare quell'attività commerciale che serve per arrivare al mercato attraverso le varie forme che permettono la massimizzazione che non sono sicuramente soltanto le asse telematiche purtroppo il ministero della giustizia con il pvp non ha semplificato la vita di nessuno nella partecipazione alle asse telematiche anzi ha rallentato i tempi e ha creato la necessità di avere una posta elettronica certificata e una firma digitale per poter partecipare partecipare telematicamente. Ci sono Frigerio e Serini che annuiscono dolentemente si sta parlando di sale d'asta fisica per gara telematica che è uno simoro praticamente la gara telematica dovrebbe essere semplice noi la facciamo dal 2011 per le procedure concorsuali che sono un pochino più assimilabili al libero mercato e la gara telematica deve essere semplice per definizione se è complessa se occorre avere una posta elettronica certificata una firma digitale è chiaro che questo scoraggia e occorre un'attività parallela per far sì che le persone che si allontanerebbero da questo sistema di vendita che deve emergere deve essere più trasparente di accompagnarle fargli capire che acquistare un immobile in asta magari è più semplice o far capire questa è un'operazione culturale che c'è alla base al debitore che barricarsi in casa o versare l'acconto per allungare diciamo la vita della vendita non risolve il problema ma brucia valore e alla fine ci si ritrova senza immobile con il debito residuo che è ancora tutto quanto lì quindi c'è una grandissima attività da fare perché i numeri come diceva Frigerio sono importanti sono oltre 250.000 gli immobili in asta 260.000 le aste mi sembra che voi dite battute ogni anno quindi riguarda una fetta di popolazione importante per questo che prima nominavo il clima sociale perché c'è proprio una rivoluzione culturale da mettere in piedi che deve partire anche dal tribunale in cui pubblicità legale non significa sempre spendere soldi per qualcosa che mi garantisce visibilità ma che spesso significa avere servizi per il tribunale esiste una sorta di scambio diciamo nei tribunali in cui la pubblicità legale è presa per poter pagare servizi che il tribunale non si può permettere quindi c'è veramente un moto di cambiamento che in questo momento di Eldorado diciamo è possibile mettere in piedi e che noi attori siamo obbligati a tenere in considerazione per far sì che l'obiettivo sia di lungo periodo e non di brevissimo periodo investitore di lungo periodo ed è ci ha raggiunto Abbadessa, Maria Abbadessa l'amministratore delegato di Dianz è sicuramente appunto il suo gruppo le chiedo se potete passare un microfono così chiediamo ovviamente dato il fermento, dato anche alcune strutture, alcuni nodi che ci sono e stiamo appunto mostrando, cercando di mostrare le chiedo quanto è interessante il mercato italiano per un investitore internazionale come voi di lungo periodo Gli NPLs in senso stretto non è interessante per il nostro profilo perché appunto ci sono troppe complicazioni poi i portafogli oggi sono troppo granulari per un investitore come noi che è più un investitore industriale che finanziario però all'interno del mercato italiano c'è una peculiarità del mondo degli NPLs che noi la leggiamo come NPLs anche se sono degli NPLs non dichiarati che non ci sono invece in altri mercati europei che sono quelli di questi maxi progetti spesso, anzi il 99% dei casi progetti di sviluppo che non vengono definiti NPLs in senso stretto ma di fatto nella sostanza sono dei crediti che non performano in carico alle banche che sono troppo grandi per passare per tutto il processo classico degli NPLs con un write off e una perdita in bilancio in cui la banca o l'assicurazione, ma in Italia è per lo più con le banche sfruttano la possibilità di avere la competenza e il denaro a long term di un investitore industriale non per venderlo subito ad un prezzo più basso rispetto a quello che è il valore di carico ma invece di rimetterlo in bonus, quindi in un'ottica di lungo termine e quindi dopo di generare un plus valore togliendolo dalla categoria NPLs in Italia questi non vengono definiti NPLs ma la realtà che il ceto bancario non ha mai ammesso in realtà sono dei veri e propri NPLs sono degli astronavi, sono degli iceberg e quindi trattarli come NPLs vorrebbe far saltare tutti i bilanci delle banche C'è un'operazione che dovrebbe vedervi sempre più attivi è quella di Milano Sesto, un'operazione molto grande si può in qualche modo vedere trasversalmente anche il discorso che lei faceva di NPLs non diretti ma in qualche modo bisogna imparare da quella strategia per affrontare grandi operazioni come ad esempio questo progetto? secondo me Milano Sesto può essere il primo esempio in Italia in cui un progetto che di fatto era non performing può essere riposizionato in un'ottica di lungo termine però con un'estrazione di valore industriale non con un repackaging una gestione classica degli NPLs a saldo e a stralcio Serrini arrivo da lei perché torno da lei anzi perché siete nel mezzo di un'operazione miliardaria con intesa so che insomma grossi dettagli ancora non ce li può dire però di certo c'è un'esperienza dalla quale partite e dalla sua esperienza personale le chiedo come approcciare il mercato che da domani 5 di giugno insomma il mercato che vediamo in questo momento si va creando quindi NPL sicuramente abbiamo detto non vedremo grosse operazioni questo è un primo messaggio che è arrivato in questa tavola rotonda ma di certo è un mercato che è ancora molto in fermento lo stiamo vedendo dai numeri dell'attività giudiziaria piuttosto che dalle statistiche in questo momento e attenzione perché è un mercato che rischia se non si fa molta attenzione parlate di trasparenza in primo piano quindi guardare bene, studiare il sottostante altrimenti si rischia di deprimere il mercato con una non corretta valutazione c'è la sfida degli UTP abbiamo parlato all'inizio della nostra tavola rotonda poi si sono giunti anche gli altri relatori che possibilità ci sono sul mercato degli UTP? se riesce a lanciarci dei messaggi perché chi come voi è protagonista sul mercato degli NPL non può non iniziare a guardare in questo momento a interessarsi anche agli incagli insomma agli unlikely to pay assolutamente sì come dicevo prima il mercato degli UTP è il mercato dei prossimi anni perché comunque il mercato degli NPL io parlo del mercato relativo alle grosse cessioni del sistema bancario poi di fatto è cambiata la proprietà dei portafogli ma sono sempre quelli lì perciò insomma così c'erano 200 e passa miliardi di euro circa di NPL sono usciti dal bilancio delle banche sono entrati in veicolo di cartellizzazione però sono sempre lì perciò vanno gestiti e come insomma così basta sentire poi i numeri riportati appunto da Frigerio che insomma così è evidente che non si può pensare al servicing di portafogli di NPL o di UTP tramite parlo più di NPL ovviamente tramite insomma così la lavorazione giudiziale per arrivare in asta arrivare in asta è una sconfitta consideriamo che comunque sia il mondo NPL che il mondo UTP è formato dal questa come fotografia dal 50% di crediti secured perciò con sottostanti immobiliari il resto è un secured ma è quasi tutto corporate perciò perché in Italia la parte di diciamo così di default di privati è bassissima perciò sì ci sono casi purtroppo assolutamente molto delicati da affrontare che ovviamente noi affrontiamo in maniera anche insomma così mettendoci una mano sul cuore quello è evidente però il grosso e parlo dell'82% circa sono corporate perciò sono piccole e medie imprese che andando in default poi diciamo così hanno avuto un finanziamento che normalmente è garantito dagli opifici dai capannoni dai mobili industriali dai mobili residenziali buona parte di quello che abbiamo in gestione a noi sono i mobili residenziali però se vai a vedere sono sono terreni in sviluppo sono sviluppi residenziali lasciati al 50% al 70% all'80% al 90% ecco se si pensa di lavorarli facendo l'attività giudiziale una perdente in partenza perché deve assolutamente lavorare sulla sul su trovare soluzioni sul sottostante immobiliare con il debitore se ovviamente diciamo così è allineato o se no con la procedura e così via è diciamo così impossibile almeno secondo la visione di Preglios è impossibile andare a gestire in Pielmo soprattutto UTP senza una piattaforma integrata una piattaforma integrata che ha tutta la gestione della catena immobiliare ovvero se non si trovano soluzioni sullo sviluppo dei 96 appartamenti a Loreto che potete andare a vedere www.valleverdeloreto.com dove vedete quello che è stato fatto ecco quello era un'operazione dove è andato in default concordato preventivo di fatto un UTP d'accordo con la procedura d'accordo con la società abbiamo completato senza andare a rimpossessare l'immobile tramite un arioco abbiamo completato tutti i 96 appartamenti e sono stati venduti poi tramite una procedura competitiva questo è quello che bisogna fare il problema è vero è che poi quello va sul mercato e sul mercato poi queste sono operazioni che vanno al prezzo di mercato in quel momento purtroppo anche il nuovo può darsi che in alcune zone va a finire in vendita sotto il prezzo di costruzione perché questo purtroppo è la realtà e perciò c'è sicuramente un grandissimo flusso che arriverà sul mercato che darà una grossa pressione ai prezzi questo è in dubbio il tema è sempre quello del prezzo ovviamente però c'è un tema che vorrei approfondire con voi perché sugli MPL noi abbiamo visto l'aiuto della GAGS la garanzia pubblica che di certo insomma abbiamo un po' incoraggiato mettiamola così per andare insomma a guardare a questi crediti deteriorati in pancia alle banche Bortot vorrei arrivare da lei perché parliamo l'abbiamo fatto anche con Serrini insomma un portafogli UTP che sono bene o male insomma quelli che le banche in questo momento hanno in portafoglio simili per alcuni aspetti solamente agli MPL il punto è che sugli UTP la GAGS non l'abbiamo Bruxelles ha prorogato la finestra per la garanzia pubblica quindi per continuare a smaltire e sostenere effettivamente questo processo ma riguarda solamente gli MPL non riguarda anche gli UTP questo che gap va a creare? Ma la mia visione è che vada bene così poi non so se i colleghi sono d'accordo ma proprio per quello che dicevo prima che gli UTP richiedono una gestione diversa molto focalizzata non parleremo di grossi portafogli per me possono anche essere gestiti al di fuori della copertura di una GAGS come dicevo se effettivamente c'è un 60% di UTP che in teoria può essere lavorato in maniera industriale poi dopo qua e quindi parliamo di numeri comunque relativamente bassi perché parliamo di 50 miliardi lordi anche qua poi bisogna distinguere perché di questa quota non tutto è garantito da immobiliare se il 50% è secured in realtà di questo 50% potremmo considerare il 35% come garantito da immobiliare dove magari si potrebbero utilizzare strumenti molto più simili a una liquidazione di un MPA ma il resto sono aziende aziende industriali aziende che ne so alimentari che fanno tutt'altro nel mondo e che hanno magari a garanzia il capannone dove producono ma la sostanza è completamente diversa per cui operazioni in quell'ambito o si ragiona su flussi di cassa quindi su ristrutturazioni quindi operazioni strettamente finanziarie o come dicevo operazioni di aggregazione M&A che quindi fanno entrare private equity operatori industriali del settore ma sono operazioni completamente diverse hanno logiche completamente diverse e anche competenze per approcciarle completamente diverse non è il gestore del recupero crediti Serrini diceva una cosa quando siamo in ambito immobiliare serve tutta la filiera che è perfetto devi avere tutta la filiera per poter rilanciare un'operazione immobiliare quando sei in un'operazione industriale devi avere l'analista finanziario devi avere l'esperto di settore devi avere tutta una serie di competenze che si aggiungono in più e che possono essere solo customizzate nel caso specifico per cui tornando all'inizio per me io non la vedo una cosa così negativa dal fatto che non sia stata messa questo strumento perché permette di ragionare nella maniera più corretta di riportare in bonus le aziende e farle ripartire con tutto ciò che questo comporta perché altrimenti assisteremmo a una svendita dell'Italia con delle grosse conseguenze sull'economia sono comunque 85 miliardi di debiti di aziende che qualcuno dovrà pagare prima o poi se rinistorceva un po' il naso le chiedo di replicare a questo punto ma io lo so non perché abbiamo il 70% delle GAX in gestione no a parte quello però allora cerchiamo di chiarirci un attimino le idee nel mondo NPL il fatto di avere dato una forte accelerazione di leveraging per le banche è stato dato dalla GAX la GAX che è la garanzia pubblica che insiste sui titoli senior investment grade di una cartellizzazione pubblica esattamente una cartellizzazione pubblica normalissima perché la GAX viene data successivamente all'emissione del rating perciò il vantaggio degli NPL tramite la GAX è stato quello che i servicer erano abituati ad avere un track record ad avere una storia lunghissima ricordo che prima della crisi operazioni pubbliche nel mondo degli NPL in Italia ne sono state fatte tantissime esattamente 29 perciò prima del 2006 più o meno che poi il mercato si era già bloccato sono state fatte 29 operazioni pubbliche cioè con rating e poi con vendita investitore istituzionale dei titoli perciò c'è tanto track record e le agenzie di rating erano abituati anche se con un gap di 9 anni ma comunque erano abituati a valutare questo e la GAX ha dato un ulteriore vantaggio perciò di fatto negli NPL l'equity che deve essere cercato sul mercato è pochissimo perché se andate a vedere quello che è successo sulle 22 operazioni di GAX fatte sul mercato mediamente la trans investment grade per servicer molto per performanti e con con un track record importante scusami no scherzo però comunque noi siamo arrivati ad avere delle trans investment grade tra l'80 e il 90% del prezzo perciò diciamo così con delle leve molto alte perciò la quota di equity che viene cercata sul mercato è bassissima e questo ha dato una grossa mano al mercato che poi è ripartito facendo anche delle operazioni pubbliche senza l'accesso alla GAX per esempio ne abbiamo fatta una tra natale capodanno per 2 miliardi e mezzo l'UTP purtroppo non essendo mai andato sul mercato sconta due fattori negativi da questo lato il primo è che le agenzie di rating non possono valutare un track record dei servicer perché i servicer hanno avuto sempre o zero o pochissimi UTP in gestione perciò non c'è un track record con le curve di recupero ma chi ce le ha ce le hanno le banche però siccome quando si fa una cartellizzazione pubblica è il servicer cioè l'agenzia di rating valuta il business plan fatto dal servicer e il track record e le curve di recupero del servicer degli ultimi sette anni questo è quello che fa un'agenzia di rating perciò e poi purtroppo per motivi tecnici non è stato esteso la GAX agli UTP consideriamo che nella prima versione dell'autorizzazione data dalla commissione si parlava di autorizzazione per le GAX sugli MPI perciò comprese MPL più UTP perciò era già stata autorizzata e poi la legge sulla GAX la prima e poi la seconda non l'ha estesa agli UTP per questioni puramente tecniche tecniche di struttura dell'operazione perciò senza la GAX e senza sugli UTP e senza un track record e senza una visione univoca anche da tutta l'agenzia di rating questo cosa comporta? Comporta che con gli MPL la quota di equity che devono mettere gli investitori è sempre molto bassa invece sugli UTP è molto alta e di conseguenza diciamo così bisogna grattarsi un po' la testa per trovare le strutture più corrette per cercare di limitare il più possibile il gap tra tra bid e ask perché se no poi ovviamente le banche non possono cedere gli UTP perché non c'è un capitale un ragionamento su questo di certo l'ha fatto anche Peruzzetto le chiedo di rispondere perché insomma Serini ha lanciato una sorta di guanto di sfida il mercato il mercato insomma è anche maturo sugli UTP la strategia è interessante insomma voi avete una vostra strategia questo sicuramente anche quasi chiave in mano la possiamo definire così? Beh sì mettendo insieme quello che poi i colleghi hanno illustrato nei vari interventi sicuramente la forza sta nell'unione il servizio integrato chiamiamolo così che unisce la parte di Allestate che diceva prima Serini ha la parte di credito che invece è comunque una parte fondamentale quando si parla di UTP torniamo al discorso di prima che si faceva sulle aziende industriali c'è sicuramente un componente immobiliare ma c'è un componente di credito queste aziende sono fortemente esposte al concetto bancario molto spesso l'analisi che va fatta è capire se questa azienda è capace di generare e tornare bonus oppure no quella è la prima distinzione la prima analisi che fai è vedere se puoi generare cash flow da quell'analisi e guardando poi se c'è del sottostante allora si può capire che tipo di intervento fare ma è un caso per caso va valutato deve avere una struttura interna in grado di gestire sia il componente di credito sia la parte immobiliare il fornire di servizio integrato secondo noi è un vantaggio proprio perché si permette di lavorare il portafoglio e parlare in questo caso di portafogli di massi importanti e quindi dall'estensione del single name classico riusciamo a guardare portafogli invece di dimensioni più cospicue perché riusciamo a segmentare a lavorare il portafoglio a seconda delle caratteristiche del debitore chiaramente unito a questo diciamo almeno al lato nostro quello che in più riusciamo a dare è anche in particolare per gli investitori che guardano gli UTP in questo caso probabilmente la maggior parte di questi sono chiaramente i investitori che guardano single name UTP cercano un chiave in mano ancora una volta cioè chi può mettere insieme sia la parte di servicing quindi le competenze lato credito lato immobiliare ha il resto dei servizi che serve per fare l'operazione in alcuni casi serve un reoccuo in alcuni casi serve un veicolo di cartellizzazione secondo la strategia che vogliono adottare altri tipi di veicoli diciamo per guardare invece la parte equity ad esempio sul debitore quindi poter fornire un chiave in mano sicuramente è una strategia che può essere utile sia lato banche sia lato lato investitori ci ha raggiunto nel frattempo lo avete visto Salvatore Ruopolo di Intrum ammetto che insomma prima di incontrarla avevo qualche timore perché avrete sicuramente googlato Intrum o andate nella sezione chi siamo e ci ha scritto se avete ricevuto una telefonata o una lettera da Intrum avete una posizione di vittoria aperta quindi insomma fortunatamente l'ho chiamata io e non è stato il contrario avevo avuto un po' di timore su questo noi siamo andati avanti nella discussione relativa al trend sugli NPL però la vorrei coinvolgere su questo per chiederle anche la visione di Intrum un altro dei grandi protagonisti legati ovviamente alle operazioni dei non performing loans e poi se possiamo allargarla anche a Yalikli2Pay che secondo molti operatori qui questa mattina sarà la vera grande sfida del 2019 e dei prossimi anni tanto per iniziare a tenerla tranquilla in Intrum i debitori li chiamiamo customer questo dovrebbe tranquillizzarmi un po' beh sì perché diciamo di estrazione nord europea diciamo il debitore di fatto ci viene assegnato dal cliente e per noi è un customer è quello che ci fa generare le fee chi vive di fee sa come vanno trattati i clienti quindi insomma parto da questo le telefonate sono sempre cordiali no allora io ovviamente a parte conoscere diciamo la maggior parte delle persone che sono sedute con i quali intavoliamo diciamo caffè di continuo oppure ci incontriamo sui tavoli diciamo di lavoro io per ritornare su quello che diceva Riccardo ma anche quello che veniva detto prima che comunque ho ascoltato arrivando in ritardo ma in realtà pensavo fossi alle 11 poi la perdoniamo ecco è mia mia culpa il senso è che secondo me manca un po' una cultura nuova di gestione in generale degli MPL e di conseguenza degli UTP io sono uno dei sostenitori diciamo dal 2016 del principio che di fatto se uno un po' prescinde dalla gestione del credito che posso anche accettare come principio essere diverso ovviamente io mi sono sempre occupato di mobili grazie a quelli che qualche anno fa parecchi anni fa mi hanno assunto e mi hanno fatto iniziare a lavorare sugli immobili con grande diciamo mia soddisfazione perché è un lavoro bellissimo il senso è che però il collaterale è sempre lo stesso se stai a UTP o stai a sofferenza è sempre lo stesso quindi io di fatto quello che invece trovo come gap vorrei suggerire nel ragionamento di Riccardo per ampliarlo perché quello che lancia Riccardo secondo me è anche diciamo uno stimolo è quello di dire probabilmente fino a qualche anno fa c'erano due mondi che non si incrociavano tutti ricorderanno che quelli che facevano investment nel real estate si occupavano di investment c'erano squadre totalmente separate di persone che gestivano i crediti in sofferenza c'erano proprio persone diverse poi magari ogni tanto c'era qualche interazione ma magari su base perizia io sono convinto che è arrivato un periodo anche per una questione puramente legata al mercato italiano per cui questi due mondi si sono pesantemente compenetrati ed è un esempio anche la mia personale esperienza professionale per cui io che facevo solo real estate a un certo punto si mi sono occupato lato equity di qualche risultazione però sono finito a lavorare all'interno di un gruppo bancario per gestire l'areoco e chi gestisce l'areoco ha la grande fortuna di vedere il peggio quindi quando uno vede il peggio come mi ha insegnato qualcuno alla fine impari a come evitarlo per cui il punto è ma i rating vengono fatti sulla base diciamo di quello che è il passato di quello che è un approccio che in passato funzionava o i rating devono iniziare a essere fatti sulla base di qualcosa che è il nuovo quando io mi siedo con le agenzie di rating e parlo di offerte fuori asta dell'areoco di un gruppo bancario tutti sgranano gli occhi e non capiscono che così facendo si riducono i tempi quasi del 40% allora il punto è questo secondo me c'è un nuovo mercato che è quello degli NPL in generale poi io sono convinto che UTP e Bad Loan si parlano perché se uno prende in gestione un appartamento arrustico lo inizia a lavorare e poi però non lo riesce a vendere poi deve fare le finiture l'appartamento è sempre lo stesso probabilmente l'unica arte che deve avere è parlare il linguaggio delle banche per poter spiegare alle banche nel senso che le banche capiscono perché le banche hanno un loro linguaggio che va rispettato compreso e adottato nel proprio mestiere quello diciamo più real estate quindi Ruopolo quello che abbiamo detto finora cioè che ci saranno ancora operazioni di NPL probabilmente non di grandi dimensioni come quelle viste finora ma insomma il mercato sarà molto vivo ancora quest'anno e a venire ci sono tutti gli NPL da gestire perché gli NPL non è che si risolvono passandoli nelle gag o in qualunque veicolo di cartolarizzazione gli NPL si risolvono quando uno poi prende l'immobile lo affitta lo vende e recupera il credito e questo è un mestiere che costa fatica è sparso su tutto il territorio quindi è il famoso granulare che nessuno granulare non in termini di sites in termini di localizzazione che nessuno vuole fare perché è faticoso c'è bisogno della rete di vendita c'è bisogno dei project manager c'è bisogno di gente che sappia il mercato locale quindi finché ci sono diciamo strumenti che supportano tanto meglio ma secondo me il punto UTP è sull'asset based approach debitore banca clients consumer insomma quelli che sono sicuramente quelli che sono i vostri interlocutori devono dialogare lei mi diceva preparandoci proprio a questo momento insieme quello che manca è il dialogo ma non lo dico dal punto di vista moralistico ma per pragmatismo perché si perde valore non andando a dialogare corretto? Beh non so a che è capitato a me capita spesso di sedersi con un debitore il debitore percepisce che magari stando a incaglio sta per essere passato a sofferenza l'avvocato subito gli dice che una volta che è passato a sofferenza c'è il rischio di distanza di fallimento chi fallisce non fa più l'imprenditore in Italia di conseguenza partono delle logiche che in un tavolo negoziale sono l'opposto per fare il deal quindi lui pensa a come tutelare se stesso a questo punto la banca pensa a come recuperare il credito attivando le leve più logiche quelle più anche diciamo più semplici perché tutti poi odiano i tribunali ma nessuno li evita questo è un altro diciamo aspetto simpatico degli NPL e quindi essere in grado di capire il linguaggio del borrower e di tradurlo in qualcosa che sia compatibile con le dinamiche le strategie delle banche che sono cose abbastanza complesse è un'arte che secondo me insomma vedrà diciamo i prossimi 5-7 anni essere secondo me prevalente motivo per cui io dico sempre tanto meglio prepararsi perché poi quello è il futuro non è con tutto il rispetto di chi agisce solo diciamo su mercati più nobili che sono altrettanto complessi però voglio dire Porto Empedocle Porto Empedocle con tutto diciamo il rispetto del mercato di Porto Empedocle però le transazioni sono due all'anno e a Milano magari le operazioni sono completamente diverse però bisogna saper gestire anche il negozietto a Porto Empedocle Abadessa le chiedo ancora un ultimo messaggio perché di sicuro lei dice noi forse guardiamo al mercato di NPL solo in maniera trasversale però di certo il dialogo di questa mattina è fondamentale perché riguarda una grandissima quantità di asset immobiliare italiano che proprio perché deve fare i conti con NPL e UTP poi di conseguenza ha un riflesso sui costi sulle transazioni sul livello di interesse anche nel nostro paese guardando questo da investitore internazionale l'Italia è un paese che preoccupa molto oppure no perché quando guardiamo ad esempio allo spread che sta detantissimo io faccio finanza tutti i giorni in televisione e mi dicono lo spread sale molto ma non va assolutamente a rispecchiare i fondamentali del nostro paese che in realtà sono ancora molto buoni sì sì il problema dell'Italia non è lo spread il problema dell'Italia non lo posso dire in maniera aperta ma è il problema della quello che viene definito burocrazia e quindi quello che poi blocca in maniera concreta che siamo sono le associazioni il comitato alcuni organi che dovrebbero proteggere determinati tipi di beni che poi in realtà diventano uno strumento politico di opposizione a chi in quel momento c'è in quel mercato e quindi si staccano dalla ideologia diciamo iniziale e vanno poi a bloccare l'intervento e i tempi della giustizia che non sono non c'è sostanzialmente nel nostro nel nostro mercato e soprattutto in in determinati tipi di investimenti come quello del residenziale in affitto per esempio dove si può occupare l'appartamento ed è difficile poi dopo da recuperare quindi lo spread è un problema ma non ho mai visto un investimento essere bocciato perché lo spread era 290 anziché 180 ho visto investimenti essere bocciati o bloccati perché c'è un comitato di 15 persone che ha il suo interesse particolare e quei 15 persone sono 15 persone che votano e quindi hanno un impatto sul processo oppure quando c'è la minaccia del ricorso al TAR adesso c'è una città in Italia il cui piano di governo del territorio è stato bloccato da un'associazione che ha fatto il ricorso al Consiglio di Stato dopo che il Consiglio del TAR l'aveva rispinto quindi il piano di una delle principali città italiane è fermo per questo quindi il problema è quello non è lo spread e questo sul mercato degli MPS si amplifica ancora di più perché stiamo parlando appunto di asset singoli piccoli importo in pedulo nel resto d'Italia dove sono dei mercati molto poco liquidi dove non sono mercati certi e quindi gli investitori internazionali sono fuori dal radar questo tipo di operazione semplificazione questo sicuramente è una necessità non solo del vostro mondo del real estate ma del mondo industriale insomma italiano non è un caso che tra brevissimo sul palco salirà il ministro della pubblica amministrazione Giulia Buongiorno per parlare proprio di questo delle opere che sono in questo momento sul tavolo per arrivare a rendervi in qualche modo la vita più semplice se è possibile io ringrazio i panelist della nostra tavola rotonda sui Non Performing Lons vi chiedo un applauso per ringraziarli grazie per aver condiviso con noi le vostre idee i vostri progetti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti